Carissimi amici di Cristiani Today, benvenuti, grazie di essere con noi. Mi trovo al Collegio Missionum a Roma e sono in compagnia di padre Giorgio Maria Fare, benvenuto e grazie per la sua disponibilità. Padre Giorgio è sacerdote dal 2001, ha conseguito la licenza in teologia fondamentale presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale, ha scritto due libri, nel 2013 ha pubblicato il libro La Santa Messa nelle due forme del rito romano, celebrare, servire, comprendere. Nel 2016 ha pubblicato il libro Il Sacrificio Perfetto, poi inoltre ha un seguitissimo canale Telegram che tra l'altro anche io seguo, dove fa delle interessanti catechesi ma non solo, potete seguire il canale Veritatem Incaritate, spero di averlo pronunciato bene. Ecco oggi padre Giorgio parliamo insomma della sua chiamata vocazionale, come ho detto prima lei è un carmelitano scalzo, ma chi era Giorgio prima della vocazione? Giorgio non so se si possa dire che esista un Giorgio prima della vocazione, nel senso che la vocazione mi ha accompagnato da sempre, non ho in mente un tempo della mia vita dove non avessi il desiderio di consacrarmi al Signore. Poi certo da giovane non avevo ben delineato dove, come, quando, insomma, però di sicuro avevo chiaro che il Signore mi chiedeva qualcosa di particolare e questo particolare voleva proprio dire questo, darsi totalmente a Lui. Quindi ecco, io ho fatto i miei studi come tutti, superiori, poi ho fatto un anno di obiettori di coscienza, poi ho fatto una importante esperienza in carcere a San Vittore di sei anni come aiuto capellano e poi appunto sono entrato in convento nel 1995 e da lì ho proseguito fino ad oggi. Quindi diciamo questa chiamata è arrivata in maniera naturale, ecco, spontanea, nel corso di queste esperienze che lei ha? Nel corso della mia vita ma fin dall'infanzia, ecco, poi le esperienze successive l'hanno aiutata a delinearsi, purificarsi, chiarirsi, però come ripeto fin dal principio c'era questo desiderio grande di darsi al Signore. Però perché proprio scegliere i carmelitani scalzi? C'è un motivo, credo, una predisposizione? Certo. Sì, il motivo è innanzitutto storico, nel senso che io la mia obiezione di coscienza l'ho fatta all'interno del convento di Milano dei carmelitani scalzi alla Mesa dei Poveri e lì ho cominciato a conoscerli. Poi la spiritualità, io l'ho conosciuta a partire da San Giovanni della Croce, leggendo la sua biografia, poi leggendo alcune opere di San Giovanni e poi l'ho approfondita sempre di più attraverso gli scritti di Santa Teresa d'Avila e insomma sono stato molto catturato da questo desiderio grande di un'esperienza intima di amicizia con Gesù, con l'umanità di Gesù e quindi tutto il tema dell'orazione, dello stare col Signore, della presenza eucaristica, insomma mi hanno conquistato sempre di più fino a diventare poi un po' il mio stile di vita. Diciamo che per lei non è stato difficile allora distinguere la chiamata, la scelta dell'ordine, però in generale magari c'è qualche giovane che ci sta seguendo, è difficile diciamo distinguere la chiamata di Dio nella propria vita? Allora, anche per me è stato un po' difficile in un certo senso quando dovevo appunto arrivare a decidere carmelitano, francescano, benedettino, quello sì è stato un po' complicato perché non è facile arrivare a una sintesi. Credo comunque che l'unico modo per superare questa complessità è quella di avere un bravo padre spirituale, cioè io sono sempre stato accompagnato da un sacerdote e questo sicuramente mi ha aiutato molto, è stato decisivo per arrivare a un dunque, per riuscire a capire dove il Signore mi chiamasse e non quello che volevo fare io, ma quello che il Signore voleva per me e questo credo che sia per qualsiasi giovane una tappa imprescindibile, quella della direzione spirituale. Beh, è fondamentale per capire certe cose, ma soprattutto per prendere certe scelte nella propria vita, questo anche per noi laici diciamo. Diciamo, lei in questo periodo sta leggendo delle meditazioni per questa quaresima di padre Avrilon, tramite appunto sempre questo canale Telegram a cui vi invito a scrivervi, veritate e ben caritate. Ma cosa vuol dire vivere la quaresima, cioè con serietà ovviamente? Ma a me sembra che il padre Avrion ci aiuta molto a capire l'importanza di vivere nel mondo con la mente, il cuore, la corporeità orientate a Dio. Vivere la quaresima credo che voglia dire mettere Dio al primo posto, togliendo tutto ciò che in qualche modo può essere di ostacolo a questa relazione, a questa, appunto a questa intimità. Tutte le meditazioni che lui fa, che hanno ogni giorno un tema, sono tutte meditazioni che se uno le dovesse leggere ed un fiato, vedrebbe che sono tutte traversate da questo continuo rimando della priorità di Dio rispetto a tutto il resto, dell'attenzione al rapporto col creato e con le creature, che sia un rapporto ordinato, che non ci siano squilibri, l'importanza di un rapporto con se stessi, che sia vero, schietto, sincero, fino ad arrivare, se è quella cosa più auspicabile, a un'unione con Dio che attraversi ogni momento della vita dell'uomo, da quando si sveglia al mattino, come il padre Avrion dice, appena svegli pensate, fate, fino ad arrivare alla sera quando consegniamo la nostra vita nelle mani di Dio, quindi credo che sia questo. C'è un messaggio che lei vuole dare, diciamo, ai nostri amici di Cristiani Today? Sì, il messaggio credo che possa essere questo, una vita che sia il più possibile eucaristica, una vita dove il cuore eucaristico di Gesù, il volto eucaristico di Gesù siano un pensiero assorbente, un pensiero centrale, un richiamo costante alle nostre riflessioni, i nostri desideri, i nostri affetti. Perché quando noi iniziamo ad avere una vita veramente eucaristica, allora si vede e si diventa veramente dei Cristiani Today. Ogni giorno. Eh sì, uno può essere veramente un cristiano quotidiano solo se ha una frequentazione interiore e costante con Gesù eucaristia e solo se Gesù eucaristia è un punto imprescindibile della sua vita, quindi anche il canale Telegram, come il canale YouTube, come il sito Internet che porta sempre lo stesso nome, no? Veritate, mi incaritate. Sono tutti strumenti che in fondo a cosa servono? Servono ad offrire alle persone un messaggio solo. Gesù eucaristia al centro e tutto deve ruotare attorno a questa unica centralità. Grazie per questa intervista, per questo messaggio e grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento.